ok ciao ragazzi oggi vediamo una veloce comparazione apertura applicazioni quelle più utilizzate tra mi 8 lite e honor 10 lite il nuovo uscito prestazioni e queste cose honor 10 lite con un 8 corda 2 gigahertz e 2 e uno schermo in orizzontale da 6.2 full hd 1080 per 2340 fotocamera da 13 megapixel doppia per possibilità di foto in bokeh e sfocatura quindi sullo sfondo e 24 megapixel la fotocamera frontale 3 giga di ram per la versione io credo che sia tra giga di ram per tutti comunque questa è la versione da 32 giga e a 3 giga di ram e android 9 e una batteria da 3400 mili ampere quindi una buona durata lo sfidante lo sfidante mi 8 lite show me che parliamo di un telefono con un 8 corda 2 giga e 2 quindi uguale display da 6 e 26 in orizzontale sempre in full hd risoluzione 1080 per 2246 fotocamera da 12 megapixel e frontale da 24 quindi le caratteristiche fino a qui sono simili 4 giga di ram 64 giga di archiviazione espandibile fino a 256 batteria da 3350 da 3350 in vendita in uscita con android 8 aggiornato a android 9 in questo caso quindi passiamo alla comparazione ora partiamo subito con le applicazioni più utilizzate chiudiamo prima tutte quelle aperte e chiudiamo tutte le applicazioni aperte partiamo con telefono 123 più o meno di cosa dici tu messaggi fotocamera risoluzione della fotocamera proprio quello faremo un confronto fotografico a parte e entrambi sono connessi con il wifi apertura youtube tesi ciao 1 2 3 whatsapp google maps ok poi google play si beh non c'è una grande differenza comunque tra uno e l'altro è facebook che io non ho però si ce l'ho qua però non è connesso ma neanche tu quindi poi tu pagina non ce l'hai e tutte le altre applicazioni non ce l'ha spotify non ce l'hai facciamo vabbè dai instagram instagram che ce l'abbiamo tutte e due ok vabbè dai alla fine la comparazione come al solito più che altro goliardica cioè le differenze sono veramente minime considerato che questo comunque a 3 giga di ram e questo ne ha quattro quindi già quello fa un pochino di differenza i due telefoni meritano vedremo poi con la comparazione fotografica visto che hanno le stesse caratteristiche a livello fotografico ci vediamo al prossimo video ciao